Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Aiutare le piccole e medie imprese a migliorare la competitività, sviluppando investimenti settoriali difficilmente sostenibili dalle singole aziende, ma sempre più necessari per essere competitivi e per crescere. Un obiettivo previsto dal bando FESR 2021-27, filiere ed ecosistemi, che ha anche tracciato la strada da percorrere, quella dell'aggregazione in reti. I risultati sono stati presentati dall'assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini, in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle aziende capofile degli 11 progetti sostenuti. Presentiamo i risultati di un bando che aveva l'intenzione, ci siamo riusciti, di promuovere sempre di più una rete tra imprese, soprattutto sul discorso dell'ecosistema e filiere. È fondamentale perché ci sono tante azioni di sviluppo industriale che autonomamente è difficile raggiungere. Allora, questo bando ha creato quindi, in un certo senso, la possibilità di unirsi per avere e condividere delle progettazioni tipo laboratori, piattaforme tecnologiche. Complessivamente sono coinvolte 54 imprese che effettueranno 5,2 milioni di investimenti a fronte di 2,6 milioni di contributi regionali. Le piccole imprese hanno bisogno di fare investimenti critici oggi per competere e molti di questi sono difficilmente alla portata della piccola impresa. Quindi lavorare assieme, unire gli sforzi per sviluppare quell'attività che individualmente sono difficili da realizzare è un passaggio molto importante. Altrimenti le imprese o sono condannate a crescere con le proprie forze o spesso vengono acquisite da altre imprese più grandi. Degli 11 progetti finanziati, due riguardano engineering e meccanica, cinque il sistema a case arredo, due la moda e due i servizi innovativi. Le attività coinvolte prevedono il risparmio energetico dello stampaggio, la cantieristica e la nautica, la produzione di occhiali immersivi, la progettazione di una macchina olearia, prodotti innovativi per l'edilizia, l'edilizia naturale, sistemi di gestione in rete, l'economia circolare, la prototipizzazione delle suole e una piattaforma digitale condivisa.